e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi per tutti gli amanti della saga ecco qui metaslag awaking che ha una data di uscita finalmente su pc ios e android il gioco appunto ha una data di uscita e un trailer di lancio che state probabilmente vedendo prodotto da porco due gli occhiali sarà uno spin off ma riproporrà meccaniche classiche della saga uno stile grafico completamente rinnovato coloratissimo e dinamico con combattimenti adrenalinici e entusiasma ed entusiasmanti sto peggiorando ditelo sotto nei commenti che sto peggiorando sarà infurbato via da ride free to play awaking include anche alcuni degli scenari originali di metal slug è una modalità cooperativa per quattro giocatori fighissima questa cosa caratterizzato da un roster che include tutti i personaggi della serie cosa penso insomma sono un amante di questo genere ci ho sempre giocato fin da quando ero ragazzino giocavo sui cabinati molti di voi forse non sanno nemmeno cosa sono momento boomer chiaramente diciamo che si legge struttura in roguelike questo mi fa un pochettino accapponare la pelle non so che cosa intendano onestamente sicuramente le abilità specifiche dei protagonisti veicoli armi che utilizzeremo per spazzare via il nemico aggiungono un certo spessore all'esperienza voglio dire signori provare non costa nulla anche perché è free to play e quindi comunque se non ci piace tranquillamente lo possiamo disinstallare e mandare a quel paese quindi detto questo data di uscita 18 luglio 2024 e il video finisce qui come al solito invito a iscrivervi al canale a lasciare un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su tiktok per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ah che bella visciata che bella ah che bella così